Prima ci hanno fatto assaggiare il panino a noi e non sapevamo assolutamente nulla. Esatto, il panino era buonissimo. Sì, addirittura tu lo hai alzannato. E poi il nostro autore Salvo ci fa, oh ragazzi un panino di McDonald's. E noi assolutamente non ci volevamo credere. Siamo rimasti senza parole. E poi ci hanno chiesto, ragazzi non è che volete fare questo esperimento qua a tutti gli italiani? E noi ovviamente esaltatissimi abbiamo accettato. Eh, questa volta forse però abbiamo fatto il rossa. E mi sa di sì. Però dai, noi ci siamo divertiti, voi anche e chi se ne fu io. Grazie. 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 Prima le donne ovviamente. Grazie. 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 Grazie.